Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul tubo del degrado oggi video scout per l'UR di Kotori esclusiva, non più esclusiva ma ok, del server cinese dunque ho aspettato un po' oggi, è appena iniziato l'evento il companion match di Maki e di Rin tra l'altro prepariamoci tutti, sarà un mezzo bagno di sangue perché la K-Lab ha deciso di fare in occasione dell'anniversario una campagna di EXP aumentata per 5, anche il bond insomma il bond relativo EXP per 5 è valida su tutti i live show quindi anche nelle canzoni evento e la EXP dura appunto fino al 6 maggio che è appunto la data di fine dell'evento comunque io ho aspettato un pochino i goal, quelli della Play Apart Together campaign come cavolo si chiama? che sarebbero questi qui no, no aspettate, non sono questi sono questi ovviamente non sono ancora completati però insomma avevo voglia di scoutare ormai ho raccolto un bel po' di scouting ticket e quindi andremo a scoutare dunque andiamo a scegliere cottori ovviamente e partiamo partiamo con questi qui da tra dai riuscirò a prendere 46 carte quindi quasi metà box ottimo ma cosa? no che brutto scritto ma vabbè mi sembra di rivedere questo momento di aver già visto questa vabbè mi sembra di aver già visto questa cosa comunque molto bene molto bene così ho tutte le gemme risparmiate andremo a fare andrò andrò a fare questi qua 4 ssr più ticket voglio andare a controllare una cosa prima ok andiamo a utilizzare questi vabbè pensavo di di fare uno scatto un po' più lunghetto invece è nuova è nuova oh sono contentissima che carina questa nozomi ok vabbè c'era già in realtà l'idea di usare questi ticket però insomma dal momento che oh oh posso utilizzare con copia questa ring ok dicevo dal momento che lo scout per cotoni è stato più breve del previsto riempiamo un po' questo video ecco ok ok non mi ricordo se credo in realtà di averla idolizzata stana io quindi ok andiamo con l'ultimo ciu ciu no ok vabbè ce l'ho già idolizzata questa manchi bla 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 ok basta niente cosa dire mi spiace di aver fatto un video molto molto breve così breve però tanto meglio anche perché ho intenzione di scautare per la prossima SR di cotoni che dovrebbe essere la make up qualcosa make up magical make up insomma quella non ricordo se nella prima o nella seconda parte del set credo la prima delle quattro parti comunque niente sono contenta che le limite di cotoni in generale mi vogliono abbastanza bene volevo scautare inizialmente anche per yo e orubi onozomi ma più che altro per la leader skill ma in realtà informandomi un po' in giro non essendo comunque il genio della matematica a livello appunto matematico è meglio una leader una center che abbia una leader skill su un anno o una subunit esempio se io ho un team basato sul secondo anno è meglio una center che mi boosti un 9,6% sul secondo anno piuttosto che queste qui che invece boostano il 12% su tutte le pure ecco insomma il succo del discorso è quello lì quindi tanto meglio gemme e risorse risparmiate per yo in realtà ci devo riflettere nel senso che mi piacerebbe averla più che altro per estetica perché nonostante sia la mia worst delle acque devo dire che come carta è molto molto bella mi piace moltissimo però insomma vedremo un po' quando uscirà eccetera eccetera niente io vi ringrazio per aver visto questo video non so quando lo caricherò onestamente se esce prima del video in cui rispondo alle vostre domande vi lascio appunto il link del video in cui raccolgo le vostre domande così se ne avete da fare ve lo siete perso le potete andare a scrivere vi ringrazio per aver visto il video iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao